Oggi si fa la prova non saltare challenge sentiamo moriamo buonasera messo amico come va tutto a posto benvenuti in uno speciale 30 iscritti salve a tutti e benvenuti in questo è il nuovissimo contenuto multimediale oggi siamo sul nuovissimo videogioco stumble guys salve a tutti e benvenuti in questo nuovissimo contenuto multimediale ti sto salutando con il mio amico dressy record 360 questa nuovissima serie con dressy record 360 in cui andremo a sfatare o a confermare i miti di maggiola cicala ha distrutto la postazione oh madonna porco vai a fare in caro luca mazza game altri due euro sempre per luca ma io farò io non farò il riguardo delle 11 minuti avanti Grazie a tutti.